Il 2020 sarà ricordato a Fano tra le tante cose anche per il waltzer dei supermercati, esercizi commerciali che cambiano di mano, altri che si trasferiscono ed altri ancora che sorgono ex novo. Iniziamo dai primi, quelli che cambiano di veste come l'Ocean del Fano Center che diventerà Conad per il marchio d'Oltralpe, periodo di transizione, questo fino alla chiusura del 25 gennaio prossimo con scaffali, mezzi pieni e mezzi vuoti e scontistica su alcuni articoli, anche se in questi giorni, soprattutto nel comparto del Fresco ed in altri settori, l'approvvigionamento è ripreso, ma in altri gli scaffali mostrano ampi spazi vuoti. Dal 25 in poi, due settimane di stop e poi si riparte con il nuovo marchio e le maestranze tutte riconfermate, con buona pace dei lavoratori e dei sindacati, meno per i fanesi che dopo anni passati a chiamarlo ancora Joyland, avevano finalmente metabolizzato il marchio francese e ora invece sono punto e a capo. Altri esercizi commerciali però alzano la saracinesca ex novo, come nel quartiere del Poderino, nel residence Le Terrazze, dove un nuovo market di quartiere ha inaugurato questa mattina con grande compiacimento di tutti i residenti. Ci stiamo mettendo in una nuova avventura e oltre agli altri due punti vinta che già qui a Fano conoscono molti clienti, infatti ci sono venuti anche a trovare, quelli di Viale Picceneo e Tosperi. Abbiamo aperto quest'altro punto vendita, qui sempre una zona molto popolosa di Fano, in questo quartiere e speriamo insomma che sia una nuova e buona avventura anche questa, come sono le altre due. Ecco, voi siete un negozio di quartiere, tenete questa identità proprio per offrire il meglio alla clientela del posto. Sì, un negozio piccolo e a disposizione del cliente e cerchiamo di dare tutti i giorni cose fresche in tutti i reparti e puntiamo molto sulla familiarità con le persone e quindi questo rapporto che c'è appunto anche con i nostri dipendenti cerchiamo di trasmetterlo anche ai clienti e puntiamo molto su questo, visto che la concorrenza c'è, è frenetica quindi noi cerchiamo comunque il nostro punto di forza e questo. Ora per le nuove aperture si aspetta quella del nuovo supermercato Copp di Viale Picceno nell'area adiacente alla nuova Rotonda e dove per ora hanno terminato solo le infrastrutture mentre per i traslochi quello dell'Eurospin dovrebbe essere più imminente da via del lavoro alla nuova area dell'ex Molino Albani dove i lavori procedono a sprombattuto e dove già si vede la struttura esterna.